Tantissimo, non vedo l'ora di rivederli qua e fare 108 giorni terribili che voi avete vissuto insieme a noi e quindi sapete benissimo. Però finalmente oggi è una giornata di festa, oggi l'emozione è tanta e non vediamo l'ora di abbracciarli. Sì, ho detto personalmente proprio questo, li ho ringraziati comunque perché ci hanno permesso di trasporre il Natale con loro, però ho pure detto che 108 giorni sono stati tanti e quindi ci sta anche la critica e loro da uomini di governo devono anche accettarla. Ma oggi pensiamo alla festa, pensiamo a questo bell'evento, pensiamo che fra un poco riabbracceremo i nostri pescatori. Sì, hanno vissuto dei giorni difficili, però tutta la notte sono stato a telefono con piedi, abbiamo pianto, abbiamo poi alla fine spezzato, crisi, sono dei grandi uomini, lo dirò sempre, e supereranno presto questa brutta esperienza e torneranno di nuovo a essere i grandi marinai che sono. Oggi è il nostro Natale, lo abbiamo anticipato di un po' di giorni, per noi è il Natale oggi.